Sindaco di Ragusa Piccinto e il prefetto Librizi. Erano solo loro tre in un angolo lì nel gazebo del bar a fianco alla Camera di Commercio e hanno parlato per circa un quarto d'ora. Non è che ci volesse molto per capire che questa chiacchierata serviva a capire, a chiarire certe situazioni, magari gli immigrati, magari questo, ma non c'è dubbio che uno degli argomenti principali era proprio la questione dell'ospedale. Tra l'altro il Presidente Crocetta ha già fatto un accenno a questa cosa appena è arrivato, ma io sono andato subito dopo la fine della chiacchierata a tre e gli ho potuto fare alcune domande alle quali devo dire ha risposto con grande disponibilità. Non vi posso ripetere che cosa ha detto quello fuori dai microfoni, ha anche indicato quello che per lui è il colpevole di tutta questa storia, ma noi l'avevamo già capito precedentemente e però ha fatto una promessa solenne. Io mi impegnerò perché l'ospedale di Ragusa deve riaprire al più presto. Sentiamo Crocetta. Ho parlato col Prefetto, la mia posizione è sempre stata quella che questo ospedale deve aprire al più presto possibile. Ci sono i problemi del contenzioso, eventualmente amministrativo, l'inchiesta, è una cosa, però occorre verificare con la Precura se ci sono le condizioni di agibilità. Io la prossima settimana comunque organizzerò una conferenza dei servizi per vedere di risolvere questo problema perché i ragusani non possono andare a finire all'ospedale di Modica quando hanno una struttura in città. Tra l'altro il permanere dell'ospedale chiuso determina un costo annuo di affitti che intorno ai 700 mila Euro e qui che potrebbero sicuramente essere destinati per migliorare la sanità. Io penso a quante cose si potrebbero fare con 700 mila Euro. Abbiamo i locali e non li utilizziamo, quindi spero veramente di poter contribuire alla più rapida possibile apertura. Allora, il Presidente Crocetta ha chiarito che si muoverà al più presto per cercare di ridare l'ospedale ai ragusani. Noi sappiamo che il giorno 21 dovrebbe essere pronta questa scia, che è questo documento di inizio di attività e noi da quel giorno inizieremo a contare mettendo un countdown, ma countdown è a scendere, un cantap, un conto a salire per i giorni che trascorreranno dal momento in cui verrà data la scia. Perché ricordate cosa dissero nella commissione di venerdì, cos'era, mercoledì scorso, quando qualcuno della direzione dell'ASPA ha detto potete stare freschi, dopo la scia noi non firmeremo una carta. Così ci metterebbero in grande difficoltà. Perché il rischio, ve l'ho già detto ieri, è che arriveremo alle prossime elezioni regionali e nazionali. Seguiremo questa cosa e faremo presente anche a Crocetta quello che ha detto in questa intervista ribadendo che si è fatto portare avanti, si è fatto convincere da qualcuno ad effettuare quelle manovre che hanno poi distrutto tutta l'organizzazione, con tutti i limiti che aveva Ricò, con tutti gli sbagli che può avere fatto, ma quando si era superato il cosiddetto punto del non ritorno bisognava andare avanti. E lì, insisto nel dire, il sindaco ha le sue colpe. Chiuso questo argomento, torniamo a questo appuntamento di oggi. Prima di far vedere le immagini, un paio di cose, una velocissima. Stamattina a Palermo sono andati quelli di articolo 1 della sinistra italiana a parlare con Leoluco Orlando. Mi diceva, ma chi ne interessa? Leoluco Orlando a Palermo, chi del sindaco? Chi ne interessa? Della regione. Allora, se voi vi mettete un po' a pensare, il fatto che si vada a cercare Leoluco Orlando che è il vincitore delle scorse elezioni per la sinistra, potrebbe avere un significato. Non si riesce a trovare il candidato per la regione siciliana, potrebbe essere una soluzione che già qualcuno ha detto. Le opposizioni lo hanno già ventilato. Leoluco Orlando potrebbe essere il candidato della sinistra alla regione, visto che Pietro Grasso non pare disponibile. Ma come può accadere? Per accadere questo, dobbiamo dire la verità, ci vuole un segnale da parte di Crocetta, che si metta da parte, ma soprattutto che si dimetta, perché dimettendo si farebbe scattare quella mancanza di limiti, cioè uno, visto che si è dimesso, anche che è il sindaco, mi dimetto e faccio il candidato. Bisogna vedere cosa diranno ai palermitani e cosa diranno ai siciliani in questo caso. Ma c'è ancora da discutere, dobbiamo aspettare il centrodestra, dobbiamo aspettare tutto quello che voi sapete. Tra le altre cose abbiamo i soliti problemi. L'onorevole Minaldo ci informa che la Siracusa gela il tratto Rosolini-Modica e è di nuovo fermo. Come al solito non cambia nulla, come al solito, è di nuovo fermo e allora Nino Minaldo dice ma è mai possibile, ogni volta la stessa storia. Ma come dobbiamo andare avanti? C'è una grande incompiuta. Di incompiuta siamo professionisti, pensate alla questione ospedale, una grande incompiuta. Ma torniamo invece all'appuntamento di oggi che si è svolto alla Camera di Commercio stracolma, come vedete. C'erano un po' tutti, sia perché si parlava, c'era il Presidente della Regione, quindi personalità, ma anche perché il tema è particolarmente interessante. Tutte le risposte alle domande degli imprenditori per quello che riguarda l'economia. Allora, è chiaro che questa storia faceva gola a tanti, gli imprenditori, i giovani, i ragazzi, tutti quelli che vogliono investire nel loro futuro e magari con un aiuto da parte della comunità europea. Il Presidente Crocetta era presente perché si sta facendo un tour, un tour qualificato, agrigento ed altre città, per spiegare quali sono i punti salienti di questa grande scommessa che sono i fondi della comunità europea. Naturalmente, oltre a spiegarci un po' quella che è la risorsa europea, il Presidente Crocetta ha anche toccato alcuni argomenti delicati, come per esempio quello delle province. Vediamo. Non ultima occasione, stamattina siamo stati crescenti, l'altro giorno a Catania, ora a Ragusa, saremo a Siracusa venerdì, stiamo girando tutta la Sicilia per trasmettere tre messaggi importanti. La prima, che abbiamo fatto bene sul rendiconto precedente, perché avevamo trovato una rendicontazione in cinque anni di fonte europee a 12,5%, l'abbiamo portata al 100%, l'anno scorso abbiamo fatto la migliore performance in Italia, una scommessa quasi impossibile, quindi non un centesimo attorno a Bruxelles e nel frattempo anche parte la nuova programmazione, soprattutto con le attività economiche, che sarà un accesso a sportello, quindi molto facile per le imprese che debbono fare investimenti. La seconda questione è che questo va pari passo alla nuova programmazione con l'impatto per la Sicilia, dove già dei 2 miliardi e 300 milioni che avevamo da impegnare nel periodo 17-18 già siamo a oltre 500 milioni, quindi significa che entro settembre potremo arrivare a un miliardo, quindi metà esattamente rispettando il cronoprogramma, cioè un miliardo nel 2017 e un miliardo nel 2018. E questo potrà contribuire a far crescere il PIL, perché è evidente che se noi abbiamo in qualche modo interrotto quel ciclo terrificante che ci vedeva perdere ogni anno occupazione è il PIL che va dal 2007 al 2013, dove sono persi 14 punti di PIL per intenderci e oltre 200 mila posti di lavoro. Molte imprese ancora oggi pagano il prezzo degli indebitamenti in quegli anni, soprattutto nel campo agricolo. Che c'è una Sicilia in crescita in questo momento, sia per quanto riguarda il turismo, lo vedete nella vostra provincia particolarmente baciata, Ragusa, con la riscoperta delle città d'arte, gli itinerari di Montalbano, ma anche le bellissime spiagge, il Ragusa Ibla, Cicli, Modica, c'è una serie di realtà importanti che stanno dove il turismo sta diventando permanente, istanziale, non soltanto episodico. Questo anche qui, la capacità recettiva turistica è in qualche modo anche legata molto proprio all'utilizzo serio che abbiamo fatto della programmazione europea, da dove abbiamo smesso di fare finanziare per il turismo le grandi strutture multinazionali e invece di fondere l'albergo diffuso, il bread and breakfast che sono il modello culturale, parte dei nuovi turistici, cresce il biologico e quindi anche l'export agricolo, quindi un'attenzione particolare ai nuovi bandi a questo, cresce il manifatturiero con una riconversione di tipo entusiale, perché mentre prima il nostro export era tutto legato al petrolio, il petrolio diminuisce, è evidente anche la chiusura della raffineria di Gela ovviamente contribuisce a questo ragionamento, i nuovi posti sono solo gas e non petrolio per intenderci le nuove autorizzazioni, quindi non ci saranno autorizzazioni petrolifere e si riconverte nei settori dell'alta tecnologia legate alla verticalizzazione dei prodotti agricoli. Guardate, i migliori panettone si fanno in Sicilia adesso, il fiasconaro, i cuspidi, abbiamo un utilizzo di tutti i prodotti dell'eccellenza agricoli, dal pistacchio alle mandorle, c'è un export notevole dell'industria dolciaria ma abbiamo anche l'export di caffè di marca ma anche di macchinari di marca, quindi un manifatturiero che cresce e questo ha determinato negli ultimi due anni e mezzo la crescita di 3,6% di PIL, che è un attimo finito, che è il doppio esatto della media nazionale, 1.800 e anche finalmente una tendenza inversa sull'occupazione, non più un ritmo di 30.000 posti che si perdevano l'anno ma invece negli ultimi due anni abbiamo avuto più 35.000 posti l'anno e quindi quasi 70.000 posti di lavoro in più e il miracolo non credo, però sicuramente stiamo lavorando, ormai la Sicilia ha preso una svolta diversa ed è esattamente il messaggio che vogliamo comunicare alle imprese e soprattutto ringraziare quegli imprenditori che sono scommessi, che non hanno rinunciato e questa è una provincia laboriosa. Ecco, dai dati positivi che lei ha enunciato adesso parliamo anche dell'ex provincia perché due donne quest'oggi si sono arrampicate su una gru a Siracusa, lei ha annunciato un incontro domani a Siracusa, ci sarà e qual è il futuro di questi dipendenti? No, questi io li incontrerò domani a Palermo perché non volevo aspettare l'incontro di venerdì per i contanti, però guardate, per quanto riguarda le ex province noi quest'anno abbiamo fatto uno sforzo eccezionale perché in questi anni lo Stato ha tagliato i fonti e noi praticamente abbiamo sostituito, l'ultimo accordo che abbiamo fatto sull'IVA con lo Stato è di 140 milioni che andranno alle ex province, quindi è su questo che bisogna cominciare a ragionare. Nel caso della provincia di Siracusa c'è una situazione di notevole indebitamento e dissesto che incide più delle altre ex province, però non è stata la regione a tagliare i trasferimenti per indenterci e lo Stato che in questi anni aveva rinunciato a tenere in piedi le province e lo si è visto anche, era nel referendum, l'abolizione, poi non è passata, però non c'è una strategia, però nell'ultimo accordo, ripeto che noi abbiamo fatto, daremo alle province quest'anno qualcosa come 140 milioni in più, è chiaro laddove ci sono situazioni urgenti tipo questo interverremo specificamente, ho convocato sia il commissario dell'ex provincia sia una delegazione di lavoratori. Però come regione il contenzioso non l'avete fatto con lo Stato su questo? No, l'abbiamo fatto il contenzioso perché l'accordo sull'IVA si fa proprio per queste ragioni. In Italia si parlano di politici irresponsabili? Politiche? Politici irresponsabili per quanto riguarda l'ex provincia. Ma guardate, il tema che noi vediamo tutte le questioni sono come questioni siciliane, se ci sono i fuochi ci sono in tutta Italia e sono solo in Sicilia. Le province, è esattamente il contrario, anzi le province siciliane hanno avuto un'attenzione da parte della regione, è chiaro che c'è una responsabilità dell'Ars pazzesca laddove non ha voluto completare una riforma e questo ha determinato perché da mesi le ex province dovrebbero avere organi elettivi previsti che sarebbe la gestione da parte del territorio con gli ex sintaci e questi hanno bloccato ogni operazione di questo tipo sbagliando perché noi avremmo potuto modificare poi gli statuti, prevedere le soluzioni più corrette ma avremmo permesso una rappresentazione democratica che è stata impedita dal Parlamento siciliano. È ovvio che io fra l'altro non ho avuto una maggioranza parlamentare e sarà il tema di qualsiasi governo nei prossimi anni con un sistema tripolare, sarà difficile avere all'Ars un governo che abbia una maggioranza parlamentare e si porranno esattamente drammaticamente i problemi. Però per quanto riguarda le ex province, ripeto, per quello che noi possiamo fare non a livello legislativo perché questo dipende non da noi ma dipende dal Parlamento, però per quello che riguarda amministrativamente sicuramente quest'anno le ex province avranno molti più fondi, già li hanno avuti e avranno avuto molti più fondi a disposizione, fra l'altro il problema di Siracusa, ripeto, scoppia perché c'è una situazione di un buco di bilancio terrificante. Io non sono d'accordo su quello che dice Crocetta per quanto riguarda le province. A parte tutta la parte iniziale che è questa grande possibilità per i giovani, ma ne parleremo ampiamente, per le aziende in generale, questa cosa non mi convince, questa storia delle province. Intanto per esempio ci sono i dipendenti della provincia di Siracusa che si sono riuniti per protestare contro Baccelli, ma non può dire il Presidente la colpa è dell'Arts che non ha apprezzato e non ha portato a termine concludendo la riforma. Può anche essere la riforma era sbagliata, non è che uno a furia di dirlo le cose diventano verità. La riforma era sbagliata e se ne sono accorti tutti dal primissimo momento, quando non passava se non con sforzi incredibili e con violenze politiche naturalmente su alcuni deputati. Ora la situazione qual è? Si vorrebbe tornare indietro, probabilmente non lo faranno in questa legislatura, sarà forse, non lo so, un cavallo di battaglia per la campagna elettorale per le prossime elezioni, perché non c'è dubbio che in molti rivorrebbero la provincia, ma non come hanno detto alcuni del Movimento 5 Stelle, probabilmente anche giustificati dal fatto che si è appena parlato delle elezioni e già qualcuno voleva sapere quanto prendevano i consiglieri. Lascia stare questo discorso, nello stesso tempo il Movimento 5 Stelle non può dire dobbiamo eliminare le province così, perché facendo così abbiamo visto che va a carte 48 tutto, va a carte 48 il controllo del territorio, le strade, l'organizzazione, le scuole, eppure c'erano i soldi che noi paghiamo, l'assicurazione, quando immatriculate una macchina, questi soldi vanno alle province che non fanno nulla. Ieri abbiamo sentito che l'affitto dell'elettrodotto lo paghiamo alla provincia e che fa? Niente, allora a questo punto dico che dobbiamo rivedere questa vicenda delle province, quindi non sono concorde con Crocetta sulla storia che la riforma bisognava concludere, io dico che bisognerebbe cambiarla. Torniamo al nostro argomento che è questo incontro di oggi, mi dovrebbero spiegare perché hanno fatto il parterre così, non lo capisco, la Cava di Commercio è fatta in un certo modo, queste sedie, poi ognuno di un colore messe là, mi sono sembrate stare, anche perché hanno accorciato lo spazio di riferimento. Allora, chi ha organizzato questa iniziativa? La CNA e la Logos, è naturale che si tratta di un progetto più grande, sicuramente ci saranno anche finanziamenti per questo, però la finalità è buona, con delle possibilità reali, concrete, a patto che essi sappiano sfruttare. Io l'abbiamo ascoltato, perché fa parte proprio di questa grande idea di questo appuntamento, abbiamo ascoltato il presidente della CNA Santocono e il presidente della Logos, Alessio. Sentiamo. Benvenuti alla concessionaria Toyota TD Car che quest'oggi vi propone in promozione Yaris del 2016 a 9.900 euro, allestimento business con fendinebbia, comandi al volante, bluetooth integrato e retrocamera per l'assistenza a parcheggio, ancora con 24 mesi di garanzia ufficiale Toyota. La vasta gamma dell'usato Toyota TD Car propone auto di tutte le marche, non solo Toyota. Venite a trovarci per vedere le nostre nuove offerte. Vi aspettiamo presso il nostro showroom, Toyota di Ragusa, dove oltre l'usato troverete l'intera gamma Toyota. Foglie, giochi e passatempi, via del Salice 128 a Ragusa. Negozio specializzato in giocattoli in legno e giochi in retro. Il gioco in legno stimola i bambini a sperimentare la libertà del gioco creativo e didattico. E non solo. Foglie propone anche giochi di costruzione tridimensionale e tanti altri giochi apprezzati non solo dai bambini, ma anche dagli adulti. Il gioco è il lavoro del bambino. Vieni a scoprirlo da foglie, giochi e passatempi. Vi aspettiamo in via del Salice 128 a Ragusa. Questa è Tele Iblea. Presidente, oggi alla Camera di Commercio di Ragusa si parla probabilmente l'ultima, una delle ultime volte durante le quali si può parlare di fondi comunitari e di sostegno alle imprese e a chi vuole fare imprese. Un'iniziativa del CNA provinciale, ospiti anche illustri del Governo regionale. Come la vede, Presidente? Beh, diciamo l'ultima volta prima delle ferie estive perché noi riprenderemo a settembre a fare un tour del territorio proprio per parlare delle opportunità che ci vengono date dai fondi strutturali perché ne abbiamo bisogno, perché servono alle imprese, perché servono all'economia, perché serve alla nostra provincia e alla nostra regione. Noi con questo workshop, con questo incontro abbiamo voluto portare quella che era l'opportunità dei fondi strutturali a conoscenza delle imprese, dei professionisti e delle aziende in generale. Abbiamo bisogno tutti di avere delle risorse disponibili per poterci migliorare come imprese, per poter investire sulle nostre attività, per rinnovare i prodotti, per internazionalizzarsi. E quindi necessariamente, quando il sistema bancario non ci dà supporto, quelli che sono i fondi comunitari sono una risorsa importante da non perdere, da non sciupare come è stato fatto in passato. Noi come CNA crediamo fortemente in questa opportunità, la crediamo per noi, la crediamo per le nostre imprese e soprattutto per le giovani imprese che hanno l'opportunità. tanti giovani, oggi sentiamo parlare di disoccupazione al 50% in Sicilia, tanti giovani attraverso le start-up hanno l'opportunità di avere delle risorse disponibili per creare una propria industria, scusate, una propria attività e quindi per mettersi in gioco. Ecco, noi siamo fortemente convinti che tutto questo vada promozionato, tutto questo qua vada portato nei territori, vada incentivato. Allo stesso tempo come struttura, come CNA, assieme alla Logos già siamo pronti per indirizzare, per consigliare, per suggerire, per poter fare accedere alle imprese che lo vorrebbero essere, quelli che sono i canali di finanziamenti europei. Ripeto, sono bandi... Lavoro di supporto che la CNA fa? Noi faremo lavoro di supporto, lavoro anche di indirizzo perché il mondo dei bandi, ci sono diversi piani e bandi a cui poter accedere e quindi per poter meglio indirizzare le imprese secondo le proprie esigenze a scegliere quello che è il bando che è più adatto a loro. Vedete, in Sicilia viviamo una crisi incredibile rispetto a tutta quella che è l'Italia, non ci sono investimenti pubblici, abbiamo bisogno di infrastrutture, non ci sono investimenti private, quindi questa è l'unica vera opportunità che noi non dobbiamo perdere e che dobbiamo fare fruttare al massimo. Assieme alle organizzazioni di categoria, i GIA BANCHI che hanno avuto questo incontro che si fa l'accendere di fare per le altre forze economiche e sociali, l'obiettivo è quello di creare le condizioni grazie alla presenza dei funzionari della regione siciliana che sono quelle di parlare materialmente, collaborare ai bandi, istruire le pratiche, approvare i progetti e quello di avere delle indicazioni di suggerimenti per le imprese ragusane, per i consulenti perché si possa fare una progettazione di qualità, perché si possono fare dei progetti veramente legati al territorio e questo significa occasione di sviluppo, di occupazione. Da questo incontro ci aspettiamo tutto questo, credo che sia l'ultima opportunità che oggi l'Unione Europea dà a questa benedetta terra, se noi siamo bravi, se ognuno di noi fa la il suo patto, se diamo le giuste informazioni, se anche voi come mezzo di comunicazione riuscite a diffondere questi opportunità che ci sono, spendiamo bene i soldi, avviteremo questa terra. Considerate che ad esempio c'è una misura che sull'internazionalizzazione danno 80% al fondo perduto, non si è mai verificato, si vuole promuovere la mia azienda in tutto il mondo, ho partecipazione a file, eventi in coming, restante, tutta la mia comunicazione, voglio aprire anche un piccolo showroom all'estero, mi danno l'80%, quindi considerate che è grande opportunità, ma questo bisogna fare per sapere, bisogna fare i progetti buoni e questo è il nostro obiettivo, speriamo di metterci da tutti e di dare un buon contributo a questa terra fatta da gente brava per l'editore che sarebbero tutti. Dunque la finalità è particolarmente apprezzata, perché? Perché intanto come si arriva alla finanza agevolata, come devono fare le aziende, come ristrutturare la propria azienda, come incrementare la produttività, come acquistare nuovi macchinari, come espandere il proprio mercato di riferimento. Allora noi sappiamo che la Sicilia, e l'ha detto anche Crocetta, la Sicilia diventerà bellissima senza fare pubblicità a Musumeci, è una terra bellissima. Il guaio è che purtroppo ci hanno preso in giro tante volte, ma vi devo anche dire che nel passato ci sono stati tanti imbroglioni, ma tanti, forse di più di quelli che erano quelli buoni, per cui hanno fatto girare la voce che in Sicilia non sapevamo fare un progetto, non portava nessun risultato, non si sapeva fare la rendicoltazione e i soldi restavano lì. Ora un po' è cambiata e io spero che cambia anche con questa serie di misure che poi potrete andare a cercare nei siti giusti, perché sono misure che danno dal 50 all'80%, anche a fondo perduto, ovviamente è più facile il 50 che l'80% trovarlo, e quindi è una bella cosa, però il patto è quello. Togliamo tutti quelli che sono professionisti nella parte burocratica, ma poi sono incapaci nei risultati. Perché noi abbiamo migliaia di persone che sono brave in queste cose, che sanno scrivere, meraviglioso, come quelli che vogliono lì alla regione, e io ripeto sempre, il brand, poi ci senti, ma i risultati dove sono? Negli ultimi anni io vi posso far vedere GAC, GAL, distretti, dove sono stati spesi milioni di euro, ma avessero portato un risultato. Progetti che sono partiti, Interreg, Tunisia, Malta, e cosa hanno portato di risultato? Assolutamente niente, i soldi sono stati spesi, se li sono presi quelli che hanno organizzato, perché i costi di impiegati, quelli sono stati pagati, ma i risultati siamo esattamente come prima, anzi peggio. Allora, per favore, cambiamo. Questo è il senso della domanda che ho voluto fare io personalmente all'architetto Ferrara. L'architetto Ferrara, direttore generale dell'assessorato di attività produttiva, ormai si chiama così, ma con lui abbiamo fatto un discorso vero, siccome lo conosciamo, è stato qui a Ragusa, ha fatto il sovraintendente, l'architetto Ferrara è un pratico, speriamo che vada avanti. Vediamo. Ma ci sono davvero delle speranze di far muovere l'economia? Quali sono i punti salienti che avete spiegato in questo incontro? Diciamo che più che speranze ci sono certezze. Gli attori in questa, come dire, avventura siamo in due. L'amministrazione pubblica che mette le risorse e dette le regole. Il privato che può attingere e far crescere la propria impresa, farla nascere, che ha l'occupazione. Bello è, bella vita, se si potesse fare. Si può fare, bisogna però farlo in maniera oculata, non occorre avventurarsi, pensare che si prende il denaro e si fugge via sono tempi passati. Oggi non solo bisogna puntare veramente a realizzare l'investimento, ma bisogna farlo in maniera onesta, oculata e mirata agli obiettivi del progetto. Attraverso questo noi possiamo aiutare questa terra bellissima e martoriata a crescere e a diventare finalmente quello che le compete. L'ha anche detto prima di diventare un attimo nel particolare, perché nel passato erano tutti bravi a fare queste grandi organizzazioni, poi i risultati in verità non c'erano. Sì, è vero, ma anche qui si innesca questo meccanismo perverso. Il Presidente dirà o sta dicendo che abbiamo speso il 97% delle risorse di disposizione nell'ultima programmatica. E' andata benissimo rispetto a quelle precedenti, rispetto al momento in cui abbiamo preso in mano questa avventura, ma laddove non ce l'abbiamo fatta non è stata colpa della pubblica amministrazione. ma di controlli severi, opportuni e necessari da parte della comunità europea che hanno visto le imprese incapaci di portare a termine il programma che siamo prefissati. Perché è vero che noi avevamo il 50% a fondo perduto, ma l'altro 50% uno deve averlo e deve anche avere l'IVA. Ecco perché invitiamo adesso in questa nuova programmazione ad essere oculati. Architetto, due cose. Se lei fosse giovane, quale sarebbe il settore dove sarebbe giusto oggi muoversi attraverso anche gli aiuti europei? Guardate, io ho un figlio che fa lo chef, allora gli direi che quello della ristorazione che per la prima volta è messo in campo in questa programmazione è uno splendido settore. Quello della recettività turistica dove tanta gente... Molto turismo, servizi al turista... Noi siamo una delle terre più belle del mondo, abbiamo una capacità attrattiva straordinaria, puntiamo su queste cose e facciamo diventare la Sicilia grande. Se a questo accompagniamo la crescita del manufatturiero, dell'agroalimentare, dell'economia del mare, di quelle strutture che sono considerate strategiche, ma perché lo sono per davvero, noi diventiamo finalmente un paese ricco che dà lavoro e che non deve bussare, non deve andare col cappello in mano da nessuna, da nessuna parte. Ma a chi dobbiamo rivolgersi? Perché ci sono dei tecnici che sanno fare queste cose in ogni città, perché non è che io voglio fare l'azienda e la faccio. Ecco, qual è il trucco in questo caso? Ma non c'è trucco, noi stiamo facendo quello di oggi qua a Ragusa, fa parte di un giro intenso che ci ha visto presente in molte città e luoghi della Sicilia e tutto il territorio siciliano, dove incontriamo le categorie, le imprese e le categorie professionali, i commercialisti, gli ingegneri, gli architetti, gli agronomi, tutti possono essere utili a seconda della scelta progettuale. Dobbiamo sapere che l'organizzazione deve essere precisa, cioè ci vuole una burocrazia perfetta. La burocrazia perfetta, noi cerchiamo di essere una burocrazia, non dico perfetta, buona e agile e tra l'altro voglio dire occultamente strutturata anche attraverso portali, il nuovo sistema di ricezione delle proposte e quant'altro. Dall'altra parte ci vuole la scelta di coloro che guidino l'impresa verso le scelte migliori, quindi il buon progetto, il rispetto di quello che i bandi prevedono, che l'avviso prevede, sia all'inizio, in partenza, al momento della presentazione della domanda che in seguito quando ci sarà da rendicontare. Che ci vuole sempre un po' di tempo, non sono cose che si fanno in pochi giorni. Non si fanno in pochi giorni, però questi nuovi bandi che per lo più sono a sportello e nascono a sportello per agevolare il percorso delle imprese, prevedono il 40% di anticipazione, rendicontato il quale si potrà avere un altro 50% di anticipazione e resterà fuori. A piedi non resta mai? Non dovrebbe restare mai a piedi, l'importante è che lavori bene e rendi conti bene. E che non si facciano gli imbroglietti, perché molta gente parte con questo. Esattamente, abbiamo detto prima, è finito il tempo del prendi i soldi e fuggi, oggi si lavora per costruire. Anche se sono le elezioni non cambia niente, ci si può muovere. Anche se? Ci sono le elezioni, non è che si ferma tutto. No, assolutamente, questo è un tema che è partito. Le elezioni ci saranno, pensiamo che la politica resterà quella. Sugli uffici non lo possiamo sapere, sappiamo bene che può succedere di tutto nel momento in cui dovesse cambiare qualcosa. Però siamo fiduciosi del fatto che il treno è partito e verrà mantenuto. Certo, cambiare oggi è rischioso. Allora, l'architetto Ferrara diceva che cambiare la macchina, in questo caso la parte dirigenziale, sarebbe un problema, perché ora che hanno studiato la cosa sulla parte politica, ognuno fa quello che vuole. Quindi avete capito, se riusciamo a trovare le persone giuste, con i prezzi giusti, che sanno fare i progetti giusti, facendo progetti intelligenti, attenzione, anche un po' innovativi, potrebbe essere un risultato per il futuro importante. Quali sono le cose? La ricettività, la ristorazione, il Presidente Crocetta addirittura nell'intervento ha detto una cosa con la quale non sono molto d'accordo, ha detto, puntiamo molto sul turismo, soprattutto sui B&B. Attenzione amici, i B&B sono una bellissima cosa, ma non sono imprese, non sono aziende, lo sanno tutti. Allora che fa, facciamo i fondi europei per le B&B? Non è possibile. Detto questo, chiudiamo l'argomento relativo a questa manifestazione che abbiamo seguito, come avete visto, con grande attenzione. Sappiamo con certezza che ci sono fondi ai quali dobbiamo saper accedere. Restiamo in questo settore, che è un settore molto importante, visto che tutti dicono che dobbiamo vivere il turismo. Ora c'è stato questi due fine settimana che sono stati poveri di turismo, perché poi il turismo vive di particolari situazioni contingenti. Chi viene da fuori, per esempio il mese di luglio è dedicato più ai turisti stranieri, agosto sono più gli italiani che si muovono, che vanno in ferie ad agosto, mentre gli stranieri preferiscono andare in ferie a giugno e a luglio. Quindi ora vediamo come sarà questa stagione. Vi devo dire che gli ultimi weekend di luglio non sono stati granché. Il problema è anche organizzare qualcosa che aiuti, che dia, come posso dire, l'agio ai turisti di fare qualcosa. Si è parlato del bus scoperto che collega Noto, non so dove arriva perché certe cose sono imponderabili. Invece una cosa che è stata molto vista con grande attenzione nel passato, ma quando è gratis tutto è bello nella vita e che potrebbe essere rifatta, ma viene sempre più limitata, è questa storia del treno barocco. Ci aveva scritto l'altro ieri il nostro amico Pavone per dirci alcune cose che non vanno, lo abbiamo invitato in studio per capire meglio il suo modo di vedere la questione. Vedete, alle mie spalle una delle cose delle quali vi ho sempre rotto la testa, la mia passione, che è il treno. Nel caso particolare è un treno a vapore e una locomotiva e nel caso ancora più particolare quello lì dovrebbe essere un'immagine del treno barocco. Chiedo, offermo al mio ospite che è Daniele Pavone, il quale è uno di coloro che ha sempre eseguito questa iniziativa, piccolissimi incisi che non c'è niente, con del treno barocco, ma penso che dovrebbe essere un treno aggiuntivo ai tanti treni che dovrebbero circolare sulla linea, ma tutti nella vita abbiamo dei sogni, c'è anche gente che spera di vincere il suo marino all'otto, no? Sì, esatto. Dice, allora Daniele, perché stiamo a parlare del treno barocco? Perché insomma non è che quest'anno brilli per la sua frequenza di corse, ecco, diciamo così. Sì, perché è uscito da poco il programma ufficiale. Che avrà inizio ufficialmente quando? Sì, adesso, fine luglio ci saranno le prime corse, sono in tutto quattro corse previste, saranno due a beneficio di Noto e di Modica e due saranno a beneficio di Scicli e di Ragusa. Quindi qua ne arriveranno due? Qui ne arriveranno, diciamo come Ragusa ne arriveranno soltanto due. Cioè la bellezza di due? Sì, due, soltanto due, la bellezza di due addirittura. Parque. No, ma la questione è questa, perché in realtà la preparazione del treno barocco ogni anno è un qualcosa che matura nell'arco dei mesi. Io è già da diverso tempo che mi tengo in contatto con chi si occupa dell'organizzazione del lato ecco ferroviario. Daniele, ma chi è? Chi è? Chi è? Spieghiamolo alla gente. Allora spieghiamolo, perché è una faccenda un pochino complessa. Allora, chi si occupa fattivamente del treno storico, cioè dei mezzi, della manutenzione, anche del restauro, perché comunque parliamo di viaggiare a bordo di carrozze progettate alla fine degli anni venti. Quindi sono carrozze che ormai hanno sulle spalle i loro belli 80 anni di età, non sono certo delle carrozze moderne. E milioni di chilometri. E tantissimi, tantissimi chilometri davvero. Sono le associazioni di appassionati e di ferrovieri, le quali ormai da pochi anni fanno capo tutte quante alla fondazione FS. Questo perché finalmente, dopo decenni, durante i quali tantissimi mezzi, anche importanti per la storia non solo delle nostre ferrovie, ma proprio del nostro paese, si sono perduti. finalmente Trenitalia ha realizzato questa fondazione, istituito questa fondazione che ha sede a Roma. E sta facendo un grande lavoro. E questa sta facendo un grande lavoro. Non so se l'hanno già fatto, nel prossimo c'è addirittura, c'è l'Arlechino, c'è il Settebello che verrà fuori. Stanno recuperando, questi sono degli elettrotreni storici, che ormai erano fermi e accantonati da tantissimi anni a prendere ruggine. Sono tra l'altro degli esempi meravigliosi di design italiano degli anni 50-60, che saranno tutti quanti recuperati. Addirittura, questo forse lei non lo sa ancora, io ho saputo in questi giorni che recupereranno una tartaruga nel suo aspetto originale. Sarebbe un mezzo elettrico, un locomotore elettrico di fine anni 60. Questi sono stati tutti modificati una ventina di anni fa, cambiando i frontali. Ora si è deciso di recuperare l'aspetto dei frontali originali, molto bombata, tipica proprio di fine anni 60. Tra l'altro, una cosa che non è nota a tutti, è che proprio in questi mesi, grazie a una deputata del Partito Democratico, l'On. Iacono, finalmente il nostro Paese si sta anche dotando di una legge che tuteli le cosiddette ferrovie di interesse turistico, che sono sia ferrovie ancora attive, sia ferrovie che sono state comunque, o non più in esercizio, quindi ferrovie dismesse, addirittura smantellate. Un caso potrebbe essere, anche se ancora non è stata riconosciuta tale, la nostra cara ferrovia di Ciccio Pecola. Ce ne abbiamo uno che era la più inizialità, ce l'ha noto pochino per esempio. Ce l'ha noto, quella è stata inserita direttamente già nella proposta di legge tra le quattro ferrovie siciliane che direttamente vengono istituite come ferrovie turistiche. Quindi ritornano ad essere ferrovie con i binari. Esatto, ritornano ad essere ferrovie come i binari, certo è chiaro che per esempio nel caso della noto pochino i binari ci sono ancora, ma è come se non ci fossero. Lo sviluppo è quello intanto di l'Arl. Allora, torniamo, sappiamo che questa fa fondazione. Ma la fondazione è a Roma e lo fa per i treni del Cunese, per i treni del Biro, per i treni della Val Vigiezzo e anche per qua. Lo fa per tutta Italia, poi in Sicilia in particolar modo ci sono due associazioni che fanno capo alla fondazione. Una si trova ad Agrigento e un'altra si trova a Palermo. Ma al solito loro si occupano esclusivamente della manutenzione del treno, cioè sono quelli che poi fanno anche il servizio a bordo delle carrozze, chi è che decide, ci stiamo arrivando, chi decide, chi decide poi, che cos'è, e la regione Sicilia, perché purtroppo questi treni hanno dei costi abbastanza elevati. Parliamo di cifre a 4-0 per ogni corsa, per cui purtroppo hanno necessità ogni volta di un finanziamento per poter essere messi in servizio. Anche perché tra l'altro nel caso nostro subiamo un ulteriore danno che è dato dalla distanza dai depositi in cui questi treni vengono solitamente ricoverati. E questo è un costo ulteriore. Quest'anno la regione Sicilia, a quanto pare non mi sono state comunicate le cifre ufficiali, ma ha messo a disposizione una cifra inferiore. Per cui dalla parte della fondazione delle associazioni si era proposto un programma abbastanza ricco, mentre i fondi sono stati quelli che sono, per cui le corse saranno solo 4. Che cosa succede? L'anno scorso, per esempio, erano state inserite nel programma del treno barocco sia il castello di Donna Fugata, che già qualche mese prima era stato oggetto di una corsa, sia Comiso. Queste qui sono state inserite, quest'anno non ci saranno più, perché le città che beneficeranno, come ho detto prima, saranno solo Noto, Scicli, Modica e Ragusa. Alf e Dalf, quindi una volta due e una volta le altre due. Ma non è finita qui, perché poi subentra un problema che io personalmente ho già segnalato più volte. E c'è quello che queste cose spesso poi vengono approntate per la parte turistica un po' all'ultimo momento. Pensate che l'anno scorso, io sono stato alla conferenza stampa a Palermo, in cui è stata presentata l'edizione dello scorso anno, a pochissimi giorni dal primo treno che doveva andare a Donna Fugata, ancora l'ente comune di Ragusa non era stato avvertito in tal senso. Per cui a Palermo si era organizzata una corsa senza che a Ragusa non avessi passato. Quando il castello era chiuso, tra l'altro era proprio in orario, l'orario di arrivo era quello lì durante la pausa. Ma chissà perché ci avrei scommesso. Queste sono purtroppo quelle piccole contraddizioni, io non a caso prima ho citato l'onorevole Iacono perché ho detto, ma come? Da una parte abbiamo un'area politica che ti fa una legge così bella e dall'altra abbiamo la stessa situazione politica e poi ti combinano queste situazioni. No, però Daniele se lei va in giro e ci va a vedere tutte le cose delle foto, vede che negli ultimi due anni avranno riattivato almeno per corse strapiene in Abruzzo, la Casarsa a Napoli, nel Caserdano, in Liguo, dovunque. Ma anche in Sicilia, ad Agrigento per esempio in occasione del Mandorlo in Fiore ci sono state diverse corse con gli stessi treni e hanno avuto un successo enorme. Ma qual è la differenza? E veniamo al punto dolente veramente. Dobbiamo dire la differenza vera o quella che diciamo? No, la differenza vera nel senso che in quel caso eravamo in un periodo della stagione molto più favorevole dal punto di vista climatico e soprattutto non c'era questo stress che adesso si manifesterà con le corse del treno barocco in piena estate. Perché? Noi dobbiamo partire da un principio. Certo, perché è una giornata fortunata come oggi, arrivare alle 3 del pomeriggio alla riusa dell'8 agosto vuol dire 38-49. Diventa molto difficile perché appunto dobbiamo considerare una cosa, le carrozze che vengono utilizzate per questo treno sono delle carrozze d'epoca, delle carrozze bellissime che hanno un po' quello che si chiama un po' il fascino dei nostri nonni. Però sono pur sempre delle carrozze un po' scomode, non dotate di climatizzazione. Non si pensi minimamente di climatizzarle perché significherebbe un falso storico, non avrebbe senso. Però è anche vero che bisogna un attimo pensare al comfort dei passeggeri, bisogna anche pensare che proprio per questa impostazione che è stata data, poi loro sono costretti a fare un tour de force, per cui la mattina in un paio d'ore devono visitare una prima città e poi nella piena ora del caldo all'uno e mezza alle due si arriva o a Modica o a Ragusa e in quel caso poi si ha un po' più di tempo però nelle ore più calde andare a visitare la città. Lei che vedo è molto addentro, ma il signor Fiorelli che arriva a Ragusa alle due del pomeriggio, facciamo lasciando vedere il fatto se non è già squagliato, ma per andare, visto che Ragusa a quell'ora, a parte che non c'è nessuno, deve andare a Ibra se vuole vedere qualcosa di particolare, si parte dall'idea di cercare di attrezzarlo un minimo logistico. No, questi comuni ci pensano, infatti è previsto il pullman, sono previste le guide turistiche, su questo ci penso. Ma andiamo nella seconda parte. Allora, un'idea validissima, questo è il treno barocco, ha senso se tutto il contorno logistico funziona, ma anche all'interno del treno stesso, molti treni hanno degustazioni, hanno... Ma molte iniziative, perché ripeto, il bello poi del treno barocco deve essere da una parte, perché è giusto, perché è importante, la visita delle nostre località, perché altrimenti si perde un po', ma dall'altro anche il piacere a bordo. Io ricordo per esempio quando c'è stata l'edizione, non so, di Maratonarte, che c'era questo grande bagagliaio, a Carrelli, in questo caso era un mezzo degli anni 50, all'interno della quale fu installata una mostra itinerante. Ma non solo, io per esempio, che conosco perché l'ho percorsa quasi tutta, sia in treno ma anche a piedi la nostra linea, noi abbiamo proprio qui nel Ragusano degli scorci favolosi, uno per esempio è quello noto, immortalato negli anni 50 dal maestro Peppino Leone, che è questo qui, questo pensate è il torrente sul fiume San Leonardo, è qui, è a Ragusa, quella sullo sfondo è Ragusa-Ibla. Non solo, subito prima o dopo c'è la famosa galleria. Poi c'è l'elicoidale, venendo ecco la direzione in questa direzione e subito dopo, perché da questa parte si passa sotto Ragusa, quindi sotto Corsitalia, Piazza Post, e poi si sbuca di nuovo un attimo all'aria aperta e poi inizia questa rampa elicoidale che permette di superare un dislivello di 170 metri, buona parte in galleria ma anche all'aperto. Ora, pensate che il treno viaggia lentamente, ma questo ponte, diciamo, consente una visione di pochi istanti, perché è compreso tra due gallerie. In alcuni treni storici vengono addirittura organizzate appositamente, previste già nella Corsa, delle fermate in questi casi, per permettere sia a chi è a bordo, ma anche a chi non è a bordo del treno, di poter avere questi scorsi. Ma vede Daniele, qui c'è un'altra cosa che è stata, se io questa rotologia l'adoro, sta sempre dimenticata, vede? Queste sono le cisterne per il trasporto. Questo vuol dire che il treno stava trasportando della merce, no? Sì. Che noi non vediamo un treno che trasporta della merce in questa zona, è una vita. Perché ormai è... Perché si è deciso, con l'intelligenza massima, che il trasporto sul rota è infinitamente più ecologico, meno costoso e tante altre cose, non andrà a far bisogna privilegiare quello su gomma. Ma tra l'altro su strade che non ci sono. Ma lasciamo vedere che poi ci andiamo... Allora, siamo già a 12 minuti. Andiamo a chiudere. Quindi, lei diceva giustamente, l'idea era bella, ma sviluppata così, sinceramente, due corse, tra l'altro, che arrivano a orari che arrivano, onestamente porteranno poco... Porteranno poco e porteranno anche dello scontento, perché io, che opero anche nel settore turistico, ho avuto modo di parlare con gente che viaggia... E si lamentano del caldo, della fretta, del poco tempo. E poi si diffondono. E poi si diffondono le voci e se ne tranno. Allora, invece, speriamo che da questo si tragga, facciamo gli ottimisti, insegnamento per far sì che in futuro, se, come si pensa e come si spera, verrà riproposta questa iniziativa, si organizzi in modo... Ma ci sono comunque dei paesi che fanno addirittura i treni di lusso, su tratte non molto più lontane, costano l'ira di Dio, ma fanno dormire le persone, li fanno andare nei ristoranti stellati. Cioè, devi sapere come promuoverti perché tanto non viene nessuno a dirti bravo. È vero? Esattamente. E mi fa piacere che i giovani, perché Daniele è un giovane e beato lui, abbiano sentito l'esigenza, innanzitutto prima avere afferrato questo discorso della potenzialità, della potenzialità inespressa. Poi di quella inespressa male, che è peggio di quella inespressa, perché ancora almeno inespressa non la fai. Inespressa male vuol dire che il signor Rossi torna a casa e dice non c'è andare perché proprio ti perdi di casa. quando invece il potenziale è enorme, si potrebbe fare tanto. Tra l'altro lui ha toccato un altro discorso antico che è quello del famoso LFSFS, cioè la ferrovia secondaria cosiddetta tenone cizio piego, nel quale non per riadattarlo, ma anche lì in certi tratti o in certe cose, cioè ci sono potenziali immensi che, credetemi, molte parti del mondo hanno cose molto inferiori e le hanno fatte diventare importanti, sinceramente. e non hanno tutta la carica di storia o di ambiente o di abitato di quello che abbiamo noi. Quindi io la ringrazio, uno, per aver pensato di parlare con noi e due, di aver pensato di parlare. Allora, noi ci diamo appuntamento al dopo, diciamo a settembre, quando poi lei lo segue proprio per quelle che sono le sue attività, ci potrà dire A, il riscontro in termini di persone. E B, soprattutto, che è ancora più importante, dalle sue parole traspariva questo fatto, come è stata la risposta, cioè per il signor Rossi o la signora Bianchi che è venuta, dice sì però, sì bellissimo ma, oppure no è uno schifo, oppure va bene, perché è fondamentale, le persone, coloro che sanno programmare, ascoltano, recepiscono e dopo agiscono in conseguenza. Lei ha fiducia in questo? Spero di sì. Il mio auspicio è quello che innanzitutto, come territorio, perché troppe volte questo argomento è stato affrontato un po' con un certo campanilismo, questo territorio riesca anche in questo a operare sinergicamente e a farsi sentire di più, non un po' a recepire l'evento bello pronto e impacchettato direttamente. Cerchiamo di essere un pochino, come dicevano quelli, fabbri o operatori della nostra fortuna. Vi lascio con questo augurio, ringrazio Daniele Pavone e diamoci appuntamento a dopo, sperando che sia pure in forza minima due, due nel senso di due e una e una, qualche risultato l'abbiamo portato. Grazie a Daniele. Vediamo. Grazie a tutti. Ventitresimo premio Ragusani nel mondo. Lo spettacolo del talento ibleo. Inventa Design, il nuovo showroom di gruppo Inventa. Su 8.000 metri quadrati, oltre 40 appartamenti arredati e completi. Dal moderno al classico, dal contemporaneo al coloniale. Uno showroom unico in Sicilia. Da Inventa Design anche complementi d'arredo. Falegnameria interna per mobili su misura. E per gli sposi, convenienti e prestigiose liste nozze. Ampio parcheggio, bar, servizio babysitting. Inventa Design. Zona Asimo di Capozzallo. Telefono 0932 777-169 www.inventadesign.it Foglie, giochi e passatempi. Via del Salice 128 a Ragusa. Negozio specializzato in giocattoli in legno e giochi retro. Il gioco in legno stimola i bambini a sperimentare la libertà del gioco creativo e didattico. E non solo. Foglie propone anche giochi di costruzione tridimensionale e tanti altri giochi apprezzati non solo dai bambini, ma anche dagli adulti. Il gioco è il lavoro del bambino. Vieni a scoprirlo da foglie, giochi e passatempi. Vi aspettiamo in via del Salice 128 a Ragusa. Buone nuove dall'usato. Continua ancora per pochi giorni la promozione del gruppo SCAR di Ragusa sulle vetture usate, aziendali e non. È il momento di cambiare. Alla SCAR di Ragusa troverai auto di tutte le marche, selezionate e garantite, a prezzi convenienti e facilitati. Visita il nostro reparto usato dove ogni auto riporta la data di matricolazione, i chilometri percorsi e la garanzia offerta. Ti aspettiamo per farti scoprire le tantissime buone nuove dall'usato del gruppo SCAR. Avete sentito dunque Daniele Pavone che si è sempre interessato della questione ferroviaria, poi Gianni Papa è un altro appassionato di ferrovie e si sono trovati. Io dico che questa cosa sarebbe bellissima, si dovrebbe istituzionalizzare e si potrebbe fare forse anche con uno sforzo europeo, perché no? Si dovrebbe pensare a qualcosa del genere. Chiudiamo la questione treno, abbiamo un'intervista anche con il nuovo presidente del centro commerciale naturale di Ibla, ma la manderemo in onda domani, oggi abbiamo tante cose e dobbiamo andare a chiudere. Invece spostiamoci allo IACP, l'Istituto Autonomo delle Casse Popolari, perché da tempo non c'è più il presidente e siccome si stanno studiando delle riforme sulla vicenda delle case popolari, oggi si è insediato il commissario ad acta Giovanni Rovito che avrà dei compiti proprio per pianificare la vita di questo istituto, le case popolari. È un'intervista che abbiamo praticamente in esclusiva, vediamo di capire perché Rovito è qua a Ragusa. Ospiti dell'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Ragusa, siamo con il commissario ad acta, il dottor Rovito Giovanni che è appena arrivato proprio a Ragusa ed è in atto componente della segreteria dell'assessore regionale infrastrutture, l'ingegner Bosco. Quindi è già membro dell'Urega Messina, capo gabinetto ente sviluppo agricolo. Insomma questo un po' per capire il suo curriculum vitae. Allora, commissario, poco fa così a microfoni spenti dicevamo che l'OIACP non è un ente che fa beneficenza, ma è un ente che fa assistenza, quindi che fa parte di quel terzo settore, chiamiamolo welfare, no? Sostanzialmente. Sostanzialmente vengono pagati, anche se sono, diciamolo, pure delle quote irrisorie. Sostanzialmente l'ente è un ente sano, strutturalmente sano, io non ho trovato una condizione di indebitamento, anzi, però è un ente che ha bisogno di avere delle entrate perché le entrate che ha sono solamente quelle degli affitti da parte degli occupanti, gli alloggi. L'ente vive di canoni e perciò attraverso il canone avvia i progetti di sviluppo, perciò nuove costruzioni, ma avvia anche i progetti di manutenzione a favore di coloro che occupano questi appartamenti. Il canone va da 52 euro mese fino a 208 euro, sono canoni ovviamente agevolati in funzione al reddito, ma come tutti gli ACP, anche questo gli ACP ha un elevato tasso di morosità. Una tendenza che si è cercata di invertire, l'azione gestionale del direttore nel passato ha portato a degli importanti risultati, risultati che hanno visto avviare anche una serie di sfratti, proprio perché non deve passare il messaggio e non può passare il messaggio che si può avere una casa e non pagarla. Pagarla giusta, pagarla per tutti perché così permette ad altri di avere anche un immobile. Esatto. Adesso scendiamo un po' nei particolari. C'è una situazione a Pozzallo che va, per quanto riguarda abitativa, per quanto riguarda gli alloggi ACP, che va attenzionata. Sì, io sono stato mandato qui dall'assessore Luigi Bosco, il quale con grande sensibilità è intervenuto prontamente sulla questione Pozzallo, una questione molto delicata, più volte segnalata nel tempo dall'attuale struttura dirigenziale e dalla struttura tecnica. Gli alloggi di Pozzallo realizzati negli anni 70 hanno presentato nel tempo delle situazioni di criticità strutturale. Sono attualmente abitate da 48 famiglie e l'area su cui sorgono sembrerebbe interessata a un movimento di una faglia. L'area è stata concessa dall'allora comune di Pozzallo, c'erano delle vecchie perizie geologiche. Indubbiamente noi stiamo andando avanti per accertare effettivamente i rischi che potrebbero correre queste famiglie. L'assessore si è prodicato con tutto lo staff di direzione dell'assessorato per rimodulare dei fondi GESCAL affinché questo IACP abbia delle risorse importanti e per l'eventuale messa in sicurezza o per altre condizioni di salvaguardia per la pubblica incolumità degli occupanti. Perché non si vuole lasciare in una situazione di silenzio una condizione di rischio per gli interi occupanti. Va bene, poi sentiremo anche Scuderetti che cosa ci diranno, ne parleremo domani e domani parleremo anche delle Camere di Commercio perché ci sono delle novità relative al fatto che il 31, mi sembra, ci sia la convocazione della prima assemblea della Supercamera di Commercio. Con tutti i punti interrogativi ne parleremo con l'assessore Lobello che abbiamo intervistato. Chiudiamo questo telegiornale dedicato molto alla politica regionale con un paio di servizi. Sono tutti e due dei servizi che fanno riferimento ad appuntamenti. Il primo è l'intervista al colonnello Martinelli che è il direttore della banda dei Carabinieri. Sarà qui a Ragusa, a Commercio a Ragusa, in occasione del Ragusa nel mondo. Domani avremo in studio Sebastiano D'Angelo per parlare del Ragusa nel mondo.